La politica monetaria ha fatto ciò che era necessario per l'area nel suo complesso, mirando a garantire, con il sostegno alla domanda, il mantenimento della stabilità dei prezzi. Continuerà a farlo nei modi e nei tempi appropriati. Si discute spesso, non sempre con il necessario approfondimento onolitico, del momento in cui si uscirà dall'attuale fase fortemente espansiva. Se ne parla a volte per richiedere un'accelerazione forzata, altre volte agitando al contrario lo spettro di possibili conseguenze drammatiche. Quando la decisione sarà presa, vorrà dire che nell'area si saranno ristabilite le condizioni di domanda aggregata e dei prezzi alle quali miriamo. A livello nazionale l'uscita sarà gestibile se i comportamenti saranno responsabili. Non deve preoccupare in prospettiva il graduale ritorno sui livelli più elevati dei tassi di interesse, se si alzeranno i tassi di crescita. Quello da cui bisogna guardarsi è piuttosto il rischio di un loro aumento dovuto a un calo di fiducia dei mercati, le cui conseguenze, dato il peso del debito pubblico, potrebbero essere serie.